Si entra nel vivo della stagione con una partita fondamentale per entrambe le squadre un match da dentro fuori per Lazio e Canottieri Napoli che si incontrano nella ventitresima giornata del campionato di A1 qui nella piscina dei Mosaici del Foro Italico primo confronto dunque face to face, giù il galleggiante Lazio che strappa il pallone di un soffio torna da Cannella, 5 secondi Giacomo Cannella torna con il gol dell'1-0 C'è il movimento di un compagno a liberare ma si gioca veloce la conclusione di Esposito per il pareggio Ottima azione della Canottieri Ora però c'è una situazione pericolosa La conclusione, la girata del numero 9 Vukicevic Un vantaggio, secondo me c'era un fallo, un attacco Tanaskovic si libera di Cannella e trova il 3-1 di Kac La conclusione la tocca, correggia ma non evita il gol 4-1, punteggio pesantissimo per la Lazio che fa sorridere invece la Canottieri a 5.43 dall'intervallo lungo Si alza Antonucci, non lo serve Vitale, il tiro e arriva la scossa del numero 5 Anche conclusione difficile con Antonucci su che poteva essere servito Campopiano, la cannonata per il 5-2 della Canottieri E allora ancora uomo in più per la Lazio, Colosimo Per Antonucci, si gira e anche lui la butta dentro Con grande coraggio, nonostante la sua giovanità richiama i suoi Ed è proprio Campopiano a 6 secondi dalla fine a giocare E prende espulsione in questo caso però la Canottieri che gioca veloce Con Vukicevic, ancora si riporta sul più 3 6-3 il punteggio Fallo semplice su Canella che si alza adesso Il tiro Non ci sta Giacomo Canella 6-4, ancora meno 2 per la Lazio Si prende il fallo e si porta a casa il gol Campopiano, attenzione al suo mancino Il tiro, la conclusione del 7-4 Ancora troppa libertà per il numero 8 che arrivava da dietro Va nel pozzetto, conforto Il tiro di Giorgi 7-5 Serie di capovolgimento di fronte da una parte e dall'altra Gol a Raffica Sbassu Giorgi, campo di spazio Per Narciso La veloce della Lazio E il meno 1 bianco celeste Quasi allo scadere del tempo 10 secondi ancora da giocare in questo parziale I bianco e le celesti si rifanno sotto Il tiro Ancora però la Canottieri Che conta Naskovic Ha un secondo e 7 dalla fine del tempo Si riporta sul più 2 Può mettere un sigillo La formazione ospite con Campopiano Il tiro di Ticac 9-6 Palla Antonucci Si alza Antonucci Non va al tiro, va da Canella Il numero 8 Che regala il meno 2 9-7 Il punteggio Ancora una speranza Per la formazione Bianco celeste A 2-47 dalla fine Ancora Maddaluno A più 5 Il tiro di Campopiano Del più 3 10-7 Il punteggio La parola fine sul match Che regala quasi certamente i tre punti Della Canottieri A 1-38 dalla fine 30 secondi E del basso Che può andare a tu per tu Conno e con Regia Si allunga il pallone Il numero 2 Della Canottieri Del basso la conclusione 11-7 11-7 Il punteggio Successo Fondamentale per gli ospiti Che invece complicano un poco Il piano della Lazio Che adesso andrà a Firenze Poi riceverà il Savona